ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi parleremo di tarocchi e questo video in particolare mi è stato chiesto da alcune persone perché un po di tempo fa ho pubblicato un video in cui proponevo un esercizio da fare con i tarocchi un po diverso dal solito perché proponevo una lettura dei tarocchi che fosse orientata alla riflessione personale ma collegandomi non tanto ai significati divinatori dei tarocchi ma più che altro alle sensazioni che questi possono evocare nelle diverse persone ovviamente il video che ho pubblicato era solo un esempio perché io volevo trasmettervi il metodo e non tanto il significato delle carte perché come spiego in quel video questo esercizio non deve basarsi sul significato delle carte ma su quello che le carte evocano dentro di voi quindi per ogni persona questo esercizio potrebbe risultare diverso e io volevo appunto trasmettervi questo metodo però mi è stato chiesto di fare l'esercizio considerando tutti i 22 arcani maggiori e allora devo fare un lavoro leggermente diverso perché quel video è un esempio ed è un esercizio che io propongo invece in questo video vi parlerò degli arcani maggiori utilizzati allo scopo poi di mettere in atto quell'esercizio e soprattutto mi soffermerò non sui significati divinatori ma sulle sensazioni che i tarocchi evocano su come applicare queste sensazioni nella vita quotidiana e su come utilizzare queste applicazioni per indirizzare la nostra vita verso una prospettiva nuova dopo che avrò fatto tutto questo esercizio ovviamente cercherò di creare una sorta di mappa che possa integrare i diversi significati che sono emersi però come ho già spiegato nel video scorso naturalmente io voglio trasmettervi il metodo perché i significati che vi darò in questo video non sono dei significati ufficiali ma sono soltanto degli elementi che possono diciamo emergere osservando gli arcani come si svolge l'esercizio non lo spiego di nuovo in questo video perché è già spiegato dettagliatamente nell'altro video che comunque vi lascerò nelle schede e giù in info box quindi adesso senza perdermi in ulteriori premesse direi di cominciare subito quello che faremo è andare a vedere tutti e 22 gli arcani maggiori come se li guardassimo attraverso una lente collegandoci non tanto al significato divinatorio ma alle nostre sensazioni quindi a quello che gli arcani possono evocare e poi una volta fatto questo troveremo l'applicazione pratica e l'integrazione di tutti e 22 gli arcani maggiori detto questo cominciamo subito e vediamo gli arcani uno per uno partiamo dal matto che evoca una sensazione di libertà e di leggerezza il matto rappresentato spesso in base ai diversi mazzi ovviamente però spesso è rappresentato con abiti colorati che trasmettono una sensazione di gioia di spensieratezza e l'immagine di una persona che cammina senza una meta precisa con un sacco sulle spalle con un cane al suo fianco e questo suggerisce l'idea di un viaggio iniziato senza un piano definito questo può evocare un invito a lasciarsi andare ad esplorare nuove direzioni senza paura di fallire il mago evoca potere e creatività è circondato da strumenti magici rappresenta il potenziale creativo il suo gesto di alzare una mano verso il cielo e l'altra verso terra simboleggia la connessione tra il mondo spirituale e materiale e questa carta fa pensare alla capacità di manifestare idee e progetti attraverso la volontà e l'azione la papessa evoca saggezza interiore ed introspezione è seduta con un libro aperto in grembo con un velo che copre parzialmente il volto e induce a riflettere sull'importanza della conoscenza interiore e del silenzio invita a cercare risposte dentro di sé attraverso la meditazione e l'ascolto della voce interiore l'imperatrice evoca fertilità e abbondanza spesso raffigurata in un paesaggio abbastanza lussureggiante trasmette un senso di crescita di prosperità il suo trono circondato da natura evoca la creatività la produttività facendo riflettere su come si possono coltivare e nutrire le idee e i progetti l'imperatore evoca un senso di struttura e stabilità è seduto su un trono con simboli di potere di autorità e rappresenta la solidità e il controllo questo ispira a considerare l'importanza delle fondamenta solide nella propria vita sia che si tratti di relazioni di lavoro o di obiettivi personali il papa evoca una sensazione di tradizione di guida spirituale il papa con i suoi parametri sacri e il gesto benedicente richiama alla mente l'importanza della spiritualità e delle tradizioni fa riflettere sulla connessione con valori e insegnamenti che trascendono il tempo suggerendo di cercare saggezza nelle radici spirituali e culturali gli amanti evocano una sensazione di necessità di scelta e di relazioni sono due figure sotto un angelo spesso raffigurate nell'atto di fare una scelta evocano il tema delle relazioni e delle decisioni significative invita a considerare le dinamiche dei propri rapporti e riflettere su come le nostre scelte influenzano il nostro percorso di vita il carro evoca un senso di determinazione movimento è trainato da due cavalli rappresenta il viaggio la vittoria attraverso la volontà e attraverso la direzione fa pensare alla necessità di avere il controllo e la determinazione per raggiungere i propri obiettivi suggerendo che il movimento è essenziale per il progresso la giustizia evoca equilibrio e verità con la sua bilancia e spada rappresenta l'equità e la verità induce a riflettere sull'importanza dell'equilibrio nella propria vita e sull'integrità delle nostre azioni e decisioni l'eremita evoca un senso di riflessione e di solitudine con la sua lanterna e il bastone simboleggia la ricerca interiore e la saggezza acquisita attraverso l'isolamento fa pensare all'importanza di ritagliarsi dei momenti di solitudine per riflettere e per cercare la propria verità personale la ruota della fortuna evoca una sensazione di cambiamento e ciclicità la ruota della fortuna con i suoi simboli di ascesa e declino rappresenta i cicli della vita ricorda che il cambiamento è inevitabile e invita ad accogliere le fluttuazioni con una mente aperta riconoscendo che ogni fase ha il suo valore la forza evoca coraggio e compassione la figura che doma un leone quindi questa donna che doma un leone simboleggia il controllo della forza interiore con dolcezza però quindi ispira a riflettere su come si possono utilizzare il coraggio in modo compassionevole affrontando le sfide con pazienza e con gentilezza l'appeso evoca una sensazione di sacrificio ma anche di cambio di prospettiva è sospeso a testa in giù e rappresenta un cambiamento di prospettiva quindi l'idea anche di sacrificio per ottenere questo cambiamento di prospettiva fa pensare all'importanza di guardare le situazioni da angolazioni diverse e considerare che cosa siamo disposti a sacrificare per crescere e per ottenere ciò che desideriamo la morte evoca una sensazione di trasformazione e rinascita anche se in realtà in molte persone evoca un senso di inquietitudine e di paura in realtà però anche se è raffigurata con uno scheletro e con la falce quindi va proprio a simboleggiare la morte in realtà rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo quindi fa riflettere sui cambiamenti profondi e sulle trasformazioni che sono necessarie per il rinnovamento personale la temperanza evoca armonia e moderazione con le sue coppe e il fluire dell'acqua tra di esse rappresenta l'equilibrio e la moderazione invita a considerare l'importanza di armonizzare diversi aspetti della vita promuovendo la calma e la pazienza il diavolo evoca desideri ma anche dipendenze in un certo senso raffigurato con le catene che legano le persone simboleggia le tentazioni e appunto le dipendenze perché ci sono queste catene che tengono legati quindi fa riflettere su cosa ci tiene legati su cosa ci limita suggerendo di riconoscere di affrontare le proprie ombre per liberarsene la torre la stella evoca un senso di rivelazione e di distruzione è colpita da un fulmine è una torre in rovina rappresenta quindi una rottura improvvisa fa pensare alla necessità di abbattere delle strutture che ormai sono obsolete nella propria vita per fare spazio a nuove possibilità e a nuove verità la stella evoca speranza e ispirazione con la luce guida le stelle incoraggiano a seguire la propria stella interiore quindi a mantenere la fede anche nei momenti difficili cercando ispirazione nel futuro la luna evoca un senso di intuizione e di illusione con il suo bagliore misterioso rappresenta al mondo onirico e l'intuizione quindi invita ad esplorare il proprio subconscio e a prestare attenzione ai propri sogni e alle proprie intuizioni riconoscendo le illusioni che possono confondere la propria visione quindi attenzione a non lasciarsi abbagliare il sole evoca una sensazione di gioia e di chiarezza con la sua luce radiante simboleggia la felicità e la chiarezza fa pensare all'importanza di cercare la gioia e di vivere con trasparenza e ottimismo celebrando i successi e la vitalità il giudizio evoca una sensazione di rinascita e di giudizio come dice il nome della carta perché con le figure che si risvegliano al suono della tromba rappresenta il risveglio e la rinascita ispira a riflettere sulla crescita personale e sul processo di autovalutazione in questo senso quindi intendevo che evoca una sensazione di giudizio un'autovalutazione riconoscendo le lezioni che abbiamo appreso nella vita e abbracciando anche una nuova fase il mondo evoca una sensazione di compimento di integrazione raffigurato con una figura centrale circondata da simboli che rappresentano i quattro elementi o i quattro evangelisti in base alla simbologia e ai vari mazzi rappresenta comunque un completamento un'integrazione fa pensare alla realizzazione e all'unità suggerendo che ogni esperienza e lezione fanno parte di un tutto armonico quindi tutto in armonia ogni carta dei tarocchi con i suoi simboli ricchi di significato offre un'opportunità per la riflessione e l'introspezione aiuta quindi ad esplorare diversi aspetti della nostra vita e del nostro essere però adesso vediamo come queste sensazioni di cui abbiamo parlato e che fanno parte soltanto di una prima analisi vediamo come possiamo trovare applicazione nella vita quotidiana quindi come queste sensazioni e queste intuizioni che sono state evocate dai 22 arcani maggiori possono trovare un'applicazione pratica e ricominciamo ovviamente dal matto perché poi solo alla fine faremo le varie integrazioni vediamo quindi tutte le applicazioni pratiche di queste sensazioni evocate il matto l'applicazione può essere l'inizio di una nuova attività o di un nuovo progetto con uno spirito di avventura senza temere l'ignoto abbracciando nuove esperienze opportunità e lasciando spazio alla spontaneità il mago può invece condurci verso l'utilizzo delle nostre abilità e risorse per manifestare le proprie idee quindi lavorare su un progetto creativo professionale con fiducia nelle proprie capacità la papessa spinge a dedicare del tempo alla meditazione alla riflessione interiore quindi consultare libri fonti di saggezza per trovare delle risposte a questioni anche personali l'imperatrice invita a coltivare delle relazioni dei progetti con la cura e l'attenzione di chi si concentra sul nutrimento sia fisico che emotivo creando un ambiente prospero intorno a sé l'imperatore spinge a stabilire delle strutture e delle routine nella propria vita per raggiungere obiettivi a lungo termine prendendo decisioni basate sulla logica e sulla stabilità il papa spinge a cercare la guida di mentori o di figure spirituali riflettere sui valori sulle tradizioni trovando conforto e orientamento in essi gli amanti invitano a riflettere sulle relazioni e sulle scelte che si devono fare cercando di capire quali sono i desideri autentici e come le decisioni influenzano l'ambiente circostante il carro impone obiettivi chiari e chiede di muoversi con determinazione verso di essi mantenendo il controllo delle emozioni e dirigendo l'energia verso il successo la giustizia valuta le situazioni in modo equo e bilanciato quindi invita a prendere decisioni con integrità considerando le conseguenze delle proprie azioni l'eremita invita invece a dedicare del tempo alla riflessione anche in solitudine cercando la saggezza interiore e usando questo tempo per la crescita personale la ruota della fortuna invita ad accettare i cambiamenti con una mentalità aperta riconoscendo che la vita è ciclica e che ogni fase positiva o negativa che sia ha un significato la forza invita ad affrontare le sfide con coraggio e pazienza usando soltanto la propria forza interiore per superare gli ostacoli senza ricorrere all'aggressività l'appeso invita ad un cambio di prospettiva su una situazione difficile soprattutto considerando che cosa si è disposti a sacrificare per ottenere un risultato migliore la morte invita ad abbracciare le trasformazioni necessarie nella propria vita lasciando andare vecchie abitudini o situazioni che non servono più per fare spazio al nuovo la temperanza cerca l'equilibrio in tutte le aree della vita quindi invita a praticare la moderazione la pazienza armonizzando le diverse esigenze e i diversi desideri il diavolo invita a riconoscere ad affrontare le proprie dipendenze o i comportamenti limitanti lavorando per liberarsi da ciò che ci trattiene la torre invita ad accettare i cambiamenti radicali come opportunità per ricostruire quindi utilizzare le crisi per crescere e migliorare la stella invita a mantenere la speranza e a cercare l'ispirazione nei momenti difficili quindi lasciarsi guidare dalla propria visione del futuro e dai sogni la luna invita ad ascoltare le intuizioni esplorare il subconscio quindi prestare attenzione ai propri sogni e cercare di capire quali sono le paure ma anche quali sono le illusioni il sole invita a cercare la felicità e la chiarezza nella vita quotidiana quindi vivere con ottimismo con celebrazione godendo anche delle piccole gioie il giudizio invita a riflettere sulla crescita sul valutare il proprio percorso quindi abbracciare nuove opportunità per rinascere e per migliorare il mondo invita a celebrare i successi riconoscere il compimento delle proprie fatiche quindi cercare l'integrazione e l'armonia accogliendo la completezza nella propria vita se utilizziamo i tarocchi in questo modo potranno davvero essere degli archetipi guida potremo affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza e intenzionalità migliorando il proprio benessere e la propria crescita personale adesso però vediamo come le sensazioni evocate e l'applicazione pratica di queste sensazioni possano offrire una nuova prospettiva nella nostra vita e ripartiamo quindi dal matto dobbiamo integrare le sensazioni le intuizioni per offrire un modo che sia ancora più applicativo ancora più pratico per ottenere ciò che vogliamo il matto una nuova prospettiva può essere adottare una mentalità aperta e curiosa esplorando nuove strade senza paura del fallimento questo incoraggia a prendere rischi calcolati e a vedere le opportunità in ogni nuova esperienza il mago riconoscere utilizzare pienamente le proprie capacità e risorse aiuta a capire che avete il potere di creare e di realizzare i vostri desideri attraverso la volontà e l'abilità la papessa valorizzare l'introspezione e la conoscenza interiore porta a cercare risposte dentro di sé e a fidarsi del proprio intuito piuttosto che dipendere esclusivamente da fonti esterne l'imperatrice abbracciare la creatività e la produttività in modo naturale e fluido questo incoraggia a nutrire e a coltivare le idee come si potrebbe fare ad esempio con una pianta con pazienza con cura l'imperatore implementare una struttura e stabilire basi solide nelle proprie attività questo aiuta a comprendere l'importanza di avere una visione chiara e di lavorare in modo metodico per realizzarla il papa riconoscere l'importanza delle tradizioni e dei valori spirituali soprattutto aiuta a trovare un senso di appartenenza e orientamento attraverso la connessione con qualcosa di più grande di noi gli amanti riflettere sulla qualità delle proprie relazioni e sulle scelte che facciamo aiuta a comprendere meglio i propri desideri e a prendere decisioni che siano allineati con il cuore e con la mente il carro adottare un approccio determinato e focalizzato verso i nostri obiettivi insegna l'importanza di dirigere la propria energia con precisione e disciplina per ottenere successo la giustizia valutare situazioni e decisioni in modo equilibrato e giusto spinge a cercare sempre la verità e a mantenere l'integrità nelle nostre azioni l'eremita valorizzare i momenti di solitudine e introspezione come opportunità per la crescita personale aiuta a comprendere che la saggezza spesso si trova nell'ascolto silenzioso e nella riflessione la ruota della fortuna accettare il cambiamento come una parte naturale della vita insegna a vedere ogni fase positiva o negativa che sia come una lezione e una parte del nostro viaggio personale la forza utilizzare la forza interiore con gentilezza e compassione aiuta a comprendere che il vero coraggio è quello di affrontare le sfide con pazienza e serenità l'appeso guardare le situazioni da nuove angolazioni insegna che a volte è necessario sacrificare vecchi modi di pensare per trovare soluzioni innovative e liberatorie la morte abbracciare le trasformazioni come opportunità di rinascita aiuta a vedere la fine di un ciclo come non una perdita ma un'opportunità un'opportunità per una nuova crescita la temperanza cercare l'equilibrio e l'armonia in tutte le cose insegna l'importanza di bilanciare le diverse aree della nostra vita per mantenere un benessere ottimale il diavolo riconoscere e affrontare le dipendenze e le tentazioni aiuta a comprendere che la consapevolezza delle ombre è il primo passo verso la liberazione e la crescita la torre vedere le crisi come catalizzatori per il cambiamento insegna che la distruzione di vecchie strutture può aprire la strada a nuove opportunità e verità la stella mantenere la speranza e cercare ispirazione anche nei momenti difficili incoraggia a guardare avanti con ottimismo e a seguire la visione interiore la luna prestare attenzione alle proprie intuizioni e i propri sogni aiuta a navigare le acque dell'inconscio riconoscendo che le paure e le illusioni possono offrire lezioni preziose il sole celebrare la gioia e la chiarezza nella propria vita insegna l'importanza di vivere con positività e di apprezzare le piccole vittorie quotidiane il giudizio riconoscere i propri progressi e abbracciare la possibilità di rinascita aiuta a vedere ogni momento come un'opportunità per valutare imparare e migliorare il mondo celebrare la completezza e l'integrazione di tutte le esperienze insegna a vedere la vita come un insieme armonioso dove ogni esperienza contribuisce al proprio sviluppo personale quindi per fare un piccolo riassunto queste carte evocano delle sensazioni queste sensazioni possono aiutarci a trovare un'applicazione pratica e questa applicazione pratica può aiutarci a raggiungere e a mettere in piedi delle nuove prospettive dei nuovi progetti quindi aiutano a vivere con maggiore consapevolezza e intenzionalità riconoscendo il potere delle nostre azioni delle nostre scelte delle nostre riflessioni in questo modo noi possiamo navigare la vita quotidiana con maggiore chiarezza equilibrio e anche con maggiore serenità però adesso che abbiamo fatto tutto questo lavoro noi dobbiamo collegare tutte le cose che abbiamo detto finora come se volessimo creare una mappa una mappa che ci possa guidare quindi dobbiamo unire e integrare gli elementi simili tra loro quelli che ovviamente sono emersi in modo che possano condurci verso la strada più giusta per noi vediamo come unire tutte queste cose per andare a creare una mappa che sia integrata e utile inizio e avvio inizia con uno spirito aperto e chiaro abbraccia nuove avventure definisci chiaramente i tuoi obiettivi la creatività e la manifestazione quindi usa le tue capacità per manifestare idee coltivando i tuoi progetti con cura saggezza e introspezione dedica tempo alla meditazione alla riflessione per coltivare la saggezza interiore struttura e giustizia implementa strutture solide e prendi decisioni equilibrate basate sull'integrità spiritualità e relazioni cerca una guida spirituale riconosci l'importanza delle relazioni e delle scelte significative trasformazione e cambiamento abbraccia il cambiamento come un'opportunità per crescere e rinascere equilibrio e forza cerca l'equilibrio e usa la tua forza con compassione intuizione e speranza ascolta le tue intuizioni e mantieni viva la speranza seguendo la tua stella interiore riflessione e completezza riconosci i tuoi progressi e celebra la completezza delle esperienze gioia e chiarezza vivi con ottimismo e celebra ogni momento di chiarezza e felicità consapevolezza delle ombre riconosci e affronta le tue dipendenze e i comportamenti limitanti quindi lavora per liberarti delle catene che ti trattengono prospettiva il sacrificio cambia prospettiva accette sacrifici che sono necessari per crescere e liberati da vecchi schemi abbiamo visto che anche una lettura non divinatoria dei tarocchi può dare tantissimi elementi ed essere veramente utile per dare una direzione diversa alla nostra vita per compiere delle riflessioni che possono aiutarci nei diversi percorsi che la vita ci pone davanti naturalmente come vi ho detto all'inizio io adesso non vi ho fornito i significati divinatori delle carte ma una lettura diversa basata sulle sensazioni su quello che le carte possono evocare sul significato che si può nascondere anche dietro ad una figura e alla percezione che noi abbiamo di questa figura spero comunque di esservi stata utile come sempre se avete domande o richieste di chiarimento scrivetemelo giù nei commenti e io se potrò volentieri cercherò di esaudire le vostre richieste detto questo vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti